E ciao ragazzi qui è Salit97 e benvenuti in questo gameplay di Crash Bandicoot 2 Allora ragazzi perché siamo nella sala del ghiaccio? Perché io mi sono sbloccato la gemma in Air Crash E poi mi ero sbloccato la gemma pure da un'altra parte Dobbiamo andare giù Andiamo giù perché vi voglio far vedere una cosina Sono riuscito a prendermi la gemma rossa che era qua nel livello Snow Go E anche qualcun altro Dobbiamo andare sempre giù perché ho sbloccato la stanza Eccola qua ragazzi Questa stanza qui in poche parole viene sbloccata da qui in Air Crash Da qua noi la possiamo sbloccare Vedete io in Snow Go ho sia la gemma normale che la gemma colorata Ma in base al nostro modo di fare Quindi se tutto va bene ragazzi riuscirò anche a farmi le gemme colorate Se tutto va bene Ve lo dico Una gemma in particolare non mi ricordo quale La blu Tarnes Woods No qua devi avere una gemma blu E infatti ho qua la rossa Andiamo su Sempre su perché dobbiamo andare A parte a fare una nuova stanza Per lo più per vedere Snow Beats Snow Beats se non mi sbaglio già l'ho fatto Berit Crash Course The Hill Ma se non mi sbaglio poi si doveva prendere la gemma verde Non mi ricordo Vai Crash Dai continuiamo Allora E infatti vedete Planet Food In quella missione difficile Come posso dirvi ho la gemma gialla E infatti perché guardate Vedete ho la gemma rossa E la gemma gialla Le mancano un bel po' Ok ragazzi quest'oggi affronteremo Sweary of Litter Ho usato anche Coco ad un certo punto Però provando a fare alcune reliquie Ve lo dico raga Eh gemma gialla altrove Quindi qua possiamo farci due gemme Raga perfetto Oggi sarà una puntata molto tranquilla Diciamo si e no Tre vite però Occhio qui Perfetto Speriamo del 50 Perfetto Eh te la nitro raga Voi avete capito perché Eh ok va benissimo Bravo Crash Aspettate No ho sbagliato Eh si vabbè dai dai Non fa niente va Riproviamola Ricordatevi ragazzi che Sbagliando si impara Scusatemi se nella scorsa puntata Sono stato un po' Aggressivo Mamma questo con lancia fiamma Cazzo Ok Minchia Meno male che non è andato sulla nitro Bravo Occhio qua Minchia Minchia dai Crash Dai Cazzo Ah raga Anche se perdo le vite Non mi interessa Perché qua possiamo fare Tutte e due le gemme Non mi interessa Non mi interessa Io qua devo aggiustare il filo Però Attenzione raga Eh Sono andato sulla nitro Va Vaffanculo Va Eh no raga Mi vedete accorto di vite Perché Come si dice Per fare questa cazzo di gemma Eh ho dovuto un attimo Un po' Sudarmi alcune vite Va Aspettate che mi vorrei Un po' aggiustare Va Ok Vai Perfetto Ok Piano Perché io le conosco bene Questa piattaforma Ok Mamma mia Oh Occhio qua però Ah Mmm Dio mio Subito Subito Magari avevo un'altra vita Raga Scusatemi Dio mio Ok Spero che quel messaggio Non è di Euga Speriamo Dai Per poco Cazzo No raga Qua è una Qua So come affrontarla Ma aspettate un po' Con sto microfono Oh mannaggia Puttano Ecco qua Va bene così Così Non rompi Cazzo Aspettate Ok 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 Andiamo Uca Uca Aspettate Non voglio Non voglio Non voglio avere un picazzo Io Eh raga Mi sa mi sa Qua muoio Eh Lo dico io Ve lo dico io Sì sì Ve lo scrivo E garantisco Oh ho sbloccato Ho sbloccato un trofeo Gemme Per le gemme Ai porci Stavo leggendo Oh mio dio Eh no Non è facile Non è facile Raga Qua Come questa volta Si è fatto vedere Uca Uca Scusatemi Eh raga Questo sarà un po' Video Lungo Come video Ma per lo più Ci tenevo a spiegarvi Quella stanza Diciamo Dai ripetiamo Ci vuole tanta pazienza Raga Ve lo dico Ok Dai La devo avere La maschera Assolutamente Perché se no Aspettiamo Questo Ok Raga Scusatemi Se sto parlando Poco Ma in realtà È perché mi vorrei Concentrare Aspettiamo 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 Via L'anguilla Bravissimo Occhia al topo Vabbè Dai 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 Oh Dio Ce l'ho fatta Ok Va bene Speriamo Che non spunta Nessuno No E dai Però Ma l'importante È che ho la gemma Vero Eh Vabbè Ma l'ho presa La gemma Oh Ce l'ho fatta Meno male Ce l'ho fatta Gribbio Dai Ci facciamo Un ultimo Tentativo Ce ne facciamo Un ultimo Perché Per sbloccare Tutta la gemma Qui Eh Qua ce ne vuole Di tempo Raga Purtroppo Qua Ma aspettate Se io qua Ho preso La gemma Allora Potrei anche Farne a meno E vabbè Facciamo Quest'ultimo Tentativo Va Dai Vabbè Dai Andiamo avanti Perché immagino Che da lì in poi Non ci sono più Per paura Andiamo avanti Non voglio rifare Il livello Da capo Ve lo dico Troppo Prendiamo almeno Il bonus Cazzo Oh Dio mio Speriamo Che in quel livello Non c'erano Altre gemme Ah Cioè Altre casse Perché se no Un suicidio Ah ve lo dico Non fare Manse Cazzo Oh no 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 È male Qua è veramente male Eh Vabbè Qua devo avere La maschera La riproviamoci Se no Posso anche Prendermi un attimo La maschera lì In modo però Che se vado a finire Sulle nitro Devo fare più Devo fare più Attenzione Ah Va Bungu Lassore Da va Dai Con sti cazzo Di fail E aspetta Prendiamo Quest'altro topo Così Se devo rispawnare Non ho problemi Se no Mi prendo la maschera Lì Ragazzi Se no Mi prendo un attimo La maschera E si va avanti Ah Perché sinceramente Non è che possiamo stare A fare mezza puntata Di una E di un'altra Ma dai Mamma mia Crash Dai Sti cazzo Di fail Ok Però Però Crash Però io stavo pensando Se potevo evitare Di prendere Anche le casse Di arrivare Alla fine Del livello Perché se come stanno Le cose C'è un bottone Alla fine Ci può anche stare Ci può stare Sì sì Perfetto Occhio a non fare fail Ah Infatti Perché mi puzzava A me Perché ragazzi Sapete perché Le nitro Non le possiamo prendere Abbiamo failato 6k 6 nitro Perché mi sa Mi sa C'è un bottone Sì sì Andiamo piano Qui E qua Dovrebbe rinascere Vai Vai con l'altro Dai raga Che è Bello Sto livello Dai Mi sono fatto Pure altre casse Ricordatevi Ragazzi Qua dovete Premere Sempre Cercchio Sempre Se avete Avuto Crash 2 E ditemi Sotto giù Nei commenti Se avete Avuto Crash Bandicoot 2 Aspettate Aspettate Ah Quello qua Ti faceva Arrivare Meno male Che non abbiamo Presse questa strada Avete visto Che vi avevo Detto io Però Prima di Avvenire Qua Il cristallo Questa è Questa è la L'ortura Di cazzo Di qua Eh Allora Questa è l'uscita Vai Questa è l'uscita Sì Questa è l'uscita Sì Allora Facciamo attenzione Adesso Non abbiamo più Una maschera Ok Via E infatti Che vi avevo detto Che vi avevo detto Io Dio ti ringrazio Aspettiamo Aspettate 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 Ok Dai Ahah Ce l'avevo Mamma mia Mamma mia Ahah Ce l'abbiamo fatta Raga Ok Bravissimo Aspettate Sì Ragazzi Due gemme Due gemme Più prendiamo le gemme Più abbiamo possibilità Di sbloccare Il finale alternativo Un bel Manz Va benissimo Dai Dai Va benissimo Ah Sono felicissimo Ragazzi Che ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta E poi Dobbiamo ballare La crash dance Ricordatevi Mi raccomando ragazzi Hashtag Crash dance Dai Sgancia Che schifo Crash Dai Vai Vai con la crash dance Vai Oddio Oddio Va benissimo Ragazzi Mi è piaciuta Veramente Questa puntata Salviamo E non fare fail Cazzo Stiamo prendendo Cristalli e gemme Piano piano Vabbè ragazzi Io vi invito a lasciarmi Un bel mi piace Un commento Iscrivetevi al canale Qua da Sardite 97 È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Grazie a tutti.